Buonasera Eh sì, un'ultima cosa Posso? Permette? Vieni, vieni Quanto m'affanculo Questa cosa stava pure O Firenze, o Parma Quanto? Ciao cara Ciao Ciao caro Come stai? Tutto bene? Tutto bene, sì Che combini di bello? Niente, che aspetta te Quando vuoi venire? Chiaro No, guarda Ti ho chiamato per chiederti Più che altro una cosa Noi stiamo cercando Siamo di una discoteca Di Verona E stiamo cercando delle ragazze Immagine da portare Questa discoteca tesoro Perché sono chiuse tutte le discoteche No, non è una discoteca È più che altro un locale Un locale Un Com'è che si chiamano? Un Un cocktail bar Ok? Faccio con DJ set e tutto No, no, no Era così perfetto Mi sono perso Non puoi lavorare per un po' Se non sapere che cosa fa Eh sì Non ci stavo pensando Porco due Aspetta Devo trovare Devo pensarci Cocktail bar Con DJ set all'aperto E con il ragazzo immagino Ok, a posto Pronto? Pronto Pronto, ciao cara Ciao Come stai? Bene, grazie Tu? Io tutto bene Tutto bene Bene Senti Volevo chiederti Che combini Domani sera? Ah, io lavoro Cioè sono Lavori? In attesa Ok No, perché se no Noi Allora Ti le spiego bene Come funziona Io lavoro Presso Un cocktail bar Di Parma E Stiamo cercando Delle ragazze immagine Da portare Le nostre serate Io ho 49 anni Scusi? Io ho 48 anni Non sono proprio Una ragazza Ma guarda Ancora meglio In verità Perché comunque No, se mi devo mettere A ballare In un locale da sola Non sono un tipo Le dico che Guarda Le spiego meglio Perché magari Non l'è molto chiaro Lei verrebbe pagata 800 euro a serata E Comunque Il locale è frequentato Dai uomini Che vanno dai 30 Fino ai 60 70 Quindi Diciamo che Apprezzano comunque Anche la sua età Che comunque Per quanto può sembrare avanzata Le assicuro che È ancora È ancora Nel pieno Dei suoi anni Nel fiore Dei suoi anni Quindi non preoccuparti E Mi faccia sapere Mi faccia sapere In caso Le posso lasciare una mail O comunque Se mi puoi lasciare tu una mail Ti ricontattiamo noi Le spiego Per l'appunto Se lei è interessata Sarebbe 800 euro a serata Per il locale Si chiama The Winston The Winston È un cocktail bar Abbastanza vicino Al centro di Parma Si Mi faccia sapere Lei Mi faccia sapere Se vuole lasciarmi Ma cosa dovrei fare Io praticamente Allora Lei dovrebbe Semplicemente Presentarsi appunto In questo cocktail bar Le daremo noi Un completo Che comunque Non è niente di Eccessivamente Scurrile O comunque Non Cioè Un costume Abbastanza tranquillo Dovrebbe essere Ovvio che risalti Un po' Le sue formi Ma questo Questo pensavo Fosse sottinteso E E per l'appunto Lei dovrebbe stare lì A girare per il negozio Magari Come si dice Tirare un po' In mezzo i clienti Con coinvolgere i clienti Esattamente Esattamente Oh cavolo Aspetta Domani sera C'è una notte prenotata Ok Noi siamo Cioè noi Cercheremo Sia per domani sera Che per dopo domani sera Eh per dopo domani sera Ti so dire Perché Vediamo Tu lasciami la mail Al massimo te la mando Va benissimo C'è un pezzo di carta Su cui scrivere Mi Ah già che non hai Aspetta Sì 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 Tranquilla cara Non preoccuparti No Mi ho messo giù No Perché Aspetta Aspetta no Secondo me Secondo me Aspetta Ha cliccato male Ha cliccato male Sì non può essere così Non può essere così No no Questa la vedevo bella interessata Raga no dai Fate i seri No no Tutto il mio bellissimo teatrino Che si era costruito Già così Distrutto No infatti raga Non può finire così Avrà sbagliato Prima di chiamarlo Aspetta Scusa È caduta la linea Ah ok Non preoccuparti L'avevo immaginato Posso dirti la mail Sì C'è qualcosa su cui scrivere Allora La mail sarebbe Maurizio Punto Fabiano 10 Chiocciola Libero Punto it Ok Ok Il locale Ha detto che si chiama The Winston È vicino al centro di Parma Ok Va benissimo Ti mando la mail Allora nel caso Va bene Mi faccio Guarda Se è possibile Mi faccio sapere Entro domani sera Entro le sette di domani Entro le sette di sera di domani Va bene Fai così Se non senti niente Sì Vuol dire che non ce la faccio Va bene Va bene Va bene Va bene Mi faccio sapere Grazie mille cara Arrivederci Ciao Buona serata Buonanotte Cuccia Ma se questa adesso Mi tiene libera La serata di domani Eh non è Buona giornata di lavoro Eh sì effettivamente Ok Non lo so Potevo farlo un po' più divertente Solo che la prima cosa che mi era venuta in mente Sono andato avanti con quella roba lì Chi posso chiamare? Chi altro potrei chiamare? Beh chiamiamo un'altra Chiamiamo un'altra donna Chiamiamo un'altra donna Che a noi le donne ci piacciono Sempre Le donne sono sempre bellissime ragazzi No ragazzi sono donne Sono donne Sono semplicemente Pronto? Pronto Pronto Ciao cara Ciao tesoro Dimmi tu Ciao Ciao Come stai? Tutto bene? Sì Ah ok Senti volevo chiederti una cosa Posso? Una roba veramente da un minuto Perché? No io la richiamo porco due La richiamo Non sarò stato convincente Ho cercato di essere educato Tranquillo Pagato Mannaggia a te Ragazzi Non è che è maschio È magari una donna Con una voce un po' più Più graffiata Mi ha messo giù di nuovo Proviamo Basta dai No Per cazzo Non per cazzo Basta Basta Poverino Scusami No Questa cara era la più Aveva un altro nickname Allora Riproviamo a tornare su Verona Verona Ok Per lei è la prima volta in città C'è scritto così nella descrizione Prima volta in città Pronta? Ciao cara Ciao Come stai? Tutto bene? Bene Tutto bene Senti Volevo chiederti Tu Dopodomani Hai da fare? No Per cosa? Boh Cioè Noi dovremmo fare delle cose Se Ovviamente Tutto ben ricompensato Se tu ci sei Che cose? E praticamente Allora Ti spiego Io sono Uno Un artista Ok Sono un artista Sono un artista jazz Ok Sì E stiamo registrando il video Della mia ultima canzone Ok Sì Ci servirebbero un po' di ragazze E comunque in intimo Che prendessero parte Alla Alla registrazione di questo video Sì Tu ci saresti Sarebbe semplicemente Mettersi in intimo Fare un ballo Un po' Un po' A ritmo Con la canzone E tutto ciò Verrebbe caricato Sul canale youtube Dell'artista Non va bene Ok E per quanto riguarda Il prezzo Quanto Ci mettiamo d'accordo Cosa Ci mettiamo d'accordo Ci mettiamo d'accordo Sì Ok ma tu sai ballare Tu sai ballare Certo Che sto ballando Ok ma che generi sai ballare De tutto un po' Un po' de tutto Ok mi piace Mi piace Va benissimo Allora le spiego Proprio L'ultima cosa Perché insieme a questo video Ok Sì Ci sarebbe La registrazione pure di Un ipotetico Video Video challenge Ok Un video sfida In cui Il nostro artista Si dovrebbe mettere a fare Un gioco con Le otto ragazze presenti Nel video Questo gioco Questo gioco Consiste Nel Nel riuscire a mangiare Più yogurt possibile Ok Va bene Ok Lei Lei ha problemi di stomaco O riuscirebbe Senza problemi Niente Niente Non c'è problema Nistuno Non hai problema Di stomaco Va bene Va bene Allora Tu com'è che ti chiami Taliana Come Taliana Come non ho capito Scusa Taliana 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 Hai Per caso una mail Dove posso rincontrarti Cosa Hai una mail Una mail Una mail Whatsapp o messaggi Ok Va bene Ti posso scrivere Su Whatsapp Ok va bene Ti faccio risentire Domani su Whatsapp Da un mio collaboratore Va bene Dai ok Ciao Buonasera Sì un'ultima cosa Posso Permette Vim vim Non te ne affanculo Questa cosa si stava pure incazzando Alla fine Mannaggia a te Taliana Taliana Che cazzo ti incazzi Taliana stai molto buona Va bene Ciao Buonanotte Taliana Solo Whatsapp Solo Whatsapp Vabbè Taliana Come Scusami Chiamo i hotel